Uno spettacolo osceno quello con protagoniste Ida Platano e Roberta di Padua Uomini e Donne. Finché le discussioni finivano con un botta e risposta senza particolari insulti, tutto sembrava normale. Ora, però, si sta oltrepassando il vedere due donne, madri, litigare e offendersi così a vicenda è davvero imbarazzante. Volano parole forti, tanto che danno vita a uno squallido confronto. Neppure Maria De Filippi riesce, a un certo punto, a mettere fine a questo bruttissimo momento. Molti sono i telespettatori che stanno commentando negativamente quanto accade tra Ida e Roberta. La conduttrice, qualche settimana fa, aveva cercato di portare le due dame a comprendersi a vicenda e a non litigare di nuovo per un uomo. Eppure si ritrovano ancora una volta a discutere animatamente per un cavaliere. Alessandro vicinanza. Mentre Ida appare nervosa e furiosa. Roberta con i suoi sorrisetti sembra voler dimostrare di essere superiore. Entrambe. Le due dame del trono over dovrebbero stare dalla stessa parte. Forse dovrebbero spalleggiarsi tra donne contro l'ambiguo comportamento di Alessandro. Entrambe non riescono a fidarsi di lui. E invece pare preferiscano offendersi ed entrare in competizione per chi ha la meglio convinzione. Io te le fracasso fino alla fine le pa. E, dichiara ad esempio Ida. Ti manca solo mio marito e poi te li sei fatti tutti. Continua urlando. Ma tu ce l'hai d'oro e tornano tutti da te? Risponde invece Roberta? Si offendono così a vicenda e il pubblico è davvero imbarazzato per loro. Maria si rende conto che il limite è stato oltrepassato e così decide di cambiare completamente discorso. Maria perde completamente la pazienza con Pinuccia della Giovanna. Quest'ultima. Secondo la conduttrice. Sarebbe ormai diventata pesante. In quanto troppo buono. Alessandro Rausa non riesce a dire di no. E accetta gli inviti della dama. Pur non volendo. Infatti. Il povero cavaliere ha più volte ammesso di non voler avere con Pinuccia un rapporto che va oltre l'amicizia. Cerca sempre di confortarla. Ma nella sua ingenuità teme di ferirla dicendole la verità dei fatti in modo esplicito.